Ciao belli. Obama o Romney, Romney Obama, Obama o Romney, gli americani stanno votando, colleghiamoci con la grande mela dove abbiamo mandato il collega Nicky. Sì, non bisogna abbassare troppo. Esatto. Noi ti sentiamo già eh. Allora facciamo una roba, io adesso la rimetto, la rimetto a volume di come quando la mando e provo ad abbassare giusto un fi, cioè mi provo a iniziare a parlare e la basso giusto il minimo per sentirmi. Nicky ti sentiamo benissimo. E mi dici come si sente il mix diciamo voce e musica, ok? Quindi faccio cinque secondi di musica e basta e poi inizio a parlare senza abbassare troppo il volume. Vado con la musica. La dici di Obama e Romney, altro che musica. Ti sentiamo Nicky, ci siamo? Niente, niente. Lui non ci sente. Nicky, Nicky. Fai una prova, dai. Ehi, viva la figa, viva la figa, scorregge. Nicky, Nicky, Nicky. Qui da New York, dall'undicesima stata un sacco di scorregge. Se mi cerchi il futuro, io non ti rispondo mai. Sto ascoltando Ciao Belli, sto ascoltando Ciao Belli. Dalla una alle due, io no non ci sono mai. Sto ascoltando Ciao Belli, sto ascoltando Ciao Belli. Ciao Belli. Ciao Belli, ciao. Grazie.